di arte pubblica qui a Potenza e abbiamo visto il real verso adesso vediamo il metaverso Potenza nel metaverso c'è anche il teatro stabile il teatro stabile ancora no innanzitutto io ringrazio il direttore Nicoletti per l'invito sono molto molto contenta di essere qui e ringrazio l'amico Silvio Giordano che ha tanto voluto che io intervenissi in questo contesto bene intervengo facendo un discorso che ha a che fare con un approccio da artista e da antropologa visiva in un contesto nel quale in effetti i protagonisti della esperienza che voglio raccontare Potenza nel metaverso Potenza non intesa soltanto come luogo fisico ma intesa proprio come abitanti eh la storia che eh voglio raccontare è la storia della mia famiglia abbiamo parlato fino a fino a questo momento eh di pubblico del pubblico che il gaming eh riesce a eh intercettare abbiamo parlato di un pubblico giovane eh c'è stata la riflessione eh del primo intervento di questo pomeriggio proprio su eh sulle sulle età dei giocatori e eh io mi eh sono molto felice di parlare eh di eh due eh persone i miei genitori che vivono eh virgoletto da ottant'anni nel metaverso e sono se ti interrompo ma saluto Lorenza Coricigno che io ho conosciuto ai tempi di visioni urbane di quel famoso prodotto che ho mostrato questa mattina allora se eh se posso eh diciamo ehm eh cominciare con le parole di Matthew Ball eh nel testo edito da Garzanti nel duemilaventidue che si intitola metaverso cosa significa chi lo controllerà e perché sta rivoluzionando le nostre vite eh cito il metaverso è una rete per perdurante di mondi 3D che si estende in tempo reale che restituisce un senso di identità continuo nel tempo in cui gli oggetti permangono e che tiene memoria delle transizioni effettuate in passato un numero di utenti illimitato ognuno con il proprio senso di realtà di presenza fisica ne può fare esperienza sincronicamente io credo che questa definizione sia molto chiara rispetto a quello che è il mondo del metaverso nella sua grande complessità nella quale eh ovviamente possiamo ehm contenere i concetti di eh realtà eh virtuale di realtà aumentata di realtà mista ma tornando diciamo al alla esperienza quella di eh Tonino Lane eh alias Antonio Laraia e Azzurra Collas alias Lorenza Collicigno eh e Elissa Alasi che sono io nel metaverso eh devo devo raccontare la storia eh di questi eh ultimi diciassette anni nei quali la mia famiglia ha vissuto in maniera consapevole all'interno dell'arte pubblica che ha potenza eh abbiamo visto il re dimensione del dialogo eh eh gli ultimi momenti nei quali degli abitanti consapevoli eh la quale mente si è eh attraverso l'utilizzo del metaverso dilatata eh loro non possono essere non possono avere la loro età reale sono giovani sempre e eh utilizzando queste eh queste piattaforme eh hanno eh eh quasi abbandonato quella che è la vera e propria materialità delle cose per arrivare a eh considerare le cose materiali come un aspetto vecchio un aspetto antico della realtà eh bene eh la loro esperienza ovviamente eh si eh orienta eh nella dimensione del dialogo eh con eh la grande comunità con la quale condividono questa esperienza e nella quale io come antropologa visiva mi vado ad eh posizionare con domande le ultime eh gli ultimi momenti nei quali eh ho eh diciamo eh lavorato all'interno del metaverso ponendo domande ho chiesto proprio qual è la eh relazione fra eh avatar e persona reale e corpo umano corpo fisico bene il 50% degli intervistati ha risposto no il mio avatar è eh sono io quindi riproduce fedelmente quello che io sono nella realtà mentre l'altro 50% delle persone risponde no il mio avatar è completamente diverso da me quindi è un altro me in questo eh in questo eh contesto eh intanto non sto facendo eh scorrere alcuna slide eh queste alcune eh alcune slide eh che ah ecco vanno alla rovescia ecco ok ho capito torno indietro allora eh alcune slide eh parto proprio dalla eh forse c'era una prima slide eccola no non c'è ok eh non importa allora eh potenza nel metaverso lo abbiamo detto eh l'esperienza di eh vita liquida eh in craft world nell'ultimo periodo di Lorenzo e Tonino che passano da eh 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 esperienze di eh esperienze di piece teatrali alla eh regia di film fino alla eh ad eventi culturali che si interrogano invece proprio su quella che è la tematica aperta eh del metaverso eh nei luoghi virtuali della Basilicata che sapientemente hanno eh ricostruito ovviamente è possibile giocare è possibile giocare ehm per scoprire quella che è la posizione spaziale e temporale interrogando eh i personaggi storici che abitano eh questi luoghi virtuali ma anche nell'ambito della didattica nel quale eh nella quale eh sono molto attivi attraverso delle cacce al tesoro virtuali eh bambini ma anche insegnanti vengono eh inseriti in questi contesti di mondi virtuali eh da eh Lorenza e eh Tonino eh ma eh ancora alcune immagini eh delle eh ricostruzioni eh in eh craft world questo è l'esempio della eh torre Guevara eh il eh tempio di era eh a metà ponto eh il castello il teatro romano di grumentum il castello eh di Isabella Morra a Valzini eh e un eh tipico borgo artigiano eh che è stato costruito con grande meticolosità eh da eh Tonino Lane eh per riprodurre proprio quelle che sono eh tutte le macchine eh che ehm si sono poi eh diciamo ci hanno portato poi all'evoluzione eh del del metaverso eh ma ehm eh non ci siamo eh soltanto occupati eh di eh elementi archeologici o storici della nostra regione ma abbiamo voluto anche portare all'interno di eh queste realtà del metaverso eh quella che è la contemporaneità eh quindi attraverso il laboratorio di arte pubblica che eh vive nella città di Potenza dal duemilanove negli spazi urbani e che ha in questi quindici anni narrato eh quindici ventuno comunità della regione basilicata eh abbiamo aperto nel metaverso tre sedi in special craft world e second life all'interno delle quali è possibile eh visionare quello che è eh stato realizzato eh negli eh realizzato negli anni e soprattutto è possibile eh creare un dialogo con la comunità per dal punto di vista antropologico eh narrarla. Eh ancora eh delle immagini di eh craft world eh come vi dicevo appunto il progetto eh laboratorio di arte pubblica ha narrato ventuno comunità eh tramite la mia esperienza l'ho eh portato eh fino negli Stati Uniti a Los Angeles a Plovdiv in Bulgaria eh a VQ in Cina eh per appunto dare un contributo a quello che è la valorizzazione della città di potenza ma della Basilicata eh in senso più ampio eh sia del patrimonio eh materiale che del patrimonio immateriale eh della regione eh della regione eh qui in Cina quando parlo invitata a parlare proprio di arte e metaverso dell'esperienza del eh laboratorio di arte pubblica ma soprattutto dell'esperienza inconsueta eh di eh Lorenza e Tonino eh e ancora diciamo raggiungerò eh il eh gli Stati Uniti eh con la mia docenza in Public Art e New Media alla Middlebury College Summer School eh in Vermont quindi diciamo attivo sono sempre attiva a portare quello che è il contributo che noi come gruppo come famiglia possiamo dare eh all'interno del eh dal metaverso fino al mondo reale. Ancora ehm la eh la possibilità come come sono state cioè è stato detto molto oggi no? Riusciamo attraverso il gaming eh a eh trasferire la nostra eh regione Basilicata riusciamo a dare eh uno sguardo eh su uno sguardo nuovo su quello che è il nostro eh patrimonio. Eh una una cosa molto importante e eh credo che sia stata sottolineata ma va sottolineata ancora meglio è che eh il metaverso dà la possibilità a persone con disabilità di rivivere eh una vita tra virgolette normale all'interno del eh del contesto eh metaverso. Eh mio padre eh è è un disabile al cento per cento in sedia a rotelle oggi non ci ha voluto raggiungere proprio perché diciamo le barriere architettoniche anche da un punto di vista mentale eh ti ehm ti eh frenano a volte eh ma nel metaverso ovviamente riesce a camminare riesce a volare riesce a cogliere quegli elementi che mancano nella vita reale ma così come i non vedenti così come eh i eh eh portatori di altri eh di altri handicap possono essere attraverso il metaverso eh in i inglobati in questa operazione di eh in coming turistico. Eh l'ultima forse il castello di Isabella Morra eh 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 ci ci teniamo in particolare a dire che eh la regione Basilicata anche grazie all'APT già nel duemilasette eh faceva un'operazione su Second Life su Second Life che si intitolava Lucania Lab voglio eh voglio eh citare soltanto alcuni dei partecipanti come eh Fabio Fornasari eh Giovanni Boccialtieri Mario Gerosa Giuseppe Reganieri eh e eh voglio citare eh anche ehm eh Roxello Bagbenco ACA eh Rosanna Galvani con il suo museo del metaverso dove spesso e volentieri eh faccio delle incursioni da eh incursioni da eh artista. Eh un non so se il tempo è trascorso eh direttore a tre minuti e mezzo allora ok allora eh benissimo eh mi mi preme sottolineare eh un aspetto un aspetto importante eh io da artista eh non posso far altro che eh parlare di quanto l'arte contemporanea eh si utilizzi i eh gli strumenti utilizzati dal gaming allora se eh posso diciamo fare una eh incursione del mondo dell'arte contemporanea eh volevo citare due ehm eh lavori due opere una è l'opera Rising di Marina Abramovic prodotta dalla società Acute Art che è un'opera molto molto interessante che utilizza eh la tecnologia VR eh quest'opera ci metti dalla possibilità di di metterci davanti all'avatar di Marina Abramovic. Sappiamo tutti bene eh quanto Marina Abramovic sappia essere ehm eh persuasiva nelle sue performance. In questo caso la Abramovic chiede al fruttore eh di impegnarsi eh per risolvere il problema del eh cambiamento climatico. Ebbene il fruttore eh può eh decidere di eh salvare o far annegare la Abramovic eh impegnandosi ad eh a non eh contribuire a tutto ciò che di negativo è nel mondo eh e che sta ci sta portando diciamo alla distruzione al cambiamento climatico. Eh quindi l'arte contemporanea utilizza eh il i gli strumenti del gaming. Ancora un altro esempio è quello di Fuse questo eh collettivo modenese molto molto importante a livello nazionale ed internazionale eh che nell'ultima mostra eh che si è eh si intitola eh eh ipotesi metaverso che si è conclusa luglio scorso a Roma eh esponevano eh un un'opera che si intitola eh eh multiversum eco eh che è un'opera che ha eh che prende diciamo le mosse eh dal concetto di eh multiverso eh espresso dal dallo scienziato americano eh Smolin eh che ci eh considera un mondo all'interno di tantissimi altri mondi paralleli e anche questo Fuse lo fa attraverso una video installazione immersiva quindi utilizza eh quelli che sono eh i quelle che sono le tecnologie eh proprio ehm tipiche eh della eh dell'arte contemporanea eh così come eh della gamification. Eh adesso credo eh di dover concludere eh ma eh l'ultima eh diciamo l'ultima affermazione che voglio fare è che oggi l'attività di eh Lorenza Colicigno e di Antonio Laraia eh in ehm Craft World Second Life e Spatial è eh sempre più attiva è sempre più eh diciamo propositiva eh verso la possibilità di di arrivare all'utilizzo della eh mixed reality e penso che sia questo possa essere un obiettivo anche della eh dell'Apt con il suo eh progetto eh Comics and Game eh rimangono attivi nel metaverso ma sempre con eh l'idea che nonostante siamo in un mondo ipertecnologico eh questo mondo non può essere altro che guidato eh dalle identità di coloro che lo costruiscono e le identità che loro che lo costruiscono portano al suo interno eh il eh tutto ciò che di eh intimo di forte di culturale c'è all'interno di ognuno di noi che fa che qui presenti in questa sala testimoniamo quanto è importante riuscire a portare eh la propria esperienza all'interno del gioco e all'interno della eh della realtà. Io come antropologa visiva non posso fare altro eh che ricordare che dietro il gioco c'è la comunità che gioca e giocherà a quel gioco. e quello che mi riservo come compito è quello di continuare ad indagare eh il metaverso.